Un altro tassello nei giorni scorsi è stato posto per la realizzazione del nuovo terminal intermodale presso il deposito delle ferrovie Apollo-Lucane a sera rifusa a Matera, nella zona nord della città. L'amministrazione comunale ha infatti approvato con delibera di giunta la convenzione attuativa del protocollo d'intesa stipulato tra Comune e FAL nell'aprile del 2016. Il cosiddetto terminal, ricordiamo, rappresenterà, così prevedono le intenzioni progettuali, un luogo di interscambio tra servizio ferroviario, servizi automobilistici di linea, turistici e auto privata. L'intervento prevede l'esecuzione di opere civili e di impianti tecnologici, la realizzazione di una viabilità di collegamento alla limitrofa rete stradale, oltre che una viabilità interna al comparto nonché la fornitura di speciali dispositivi tecnici e di allestimenti per la funzionalità dell'infrastruttura. Il costo dell'opera è pari a poco più di 7 milioni 268 mila euro. Tale importo verrà finanziato quasi per il 50% con fondi di cui all'accordo di programma tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Basilicata, nelle disponibilità della società FAL e per poco più del restante 50% con fondi regionali FSC 2007-2013 attribuiti all'amministrazione comunale. Le opere appaltate dovranno essere completate entro il mese di settembre del 2018, sottostante l'urgenza, si legge dalla delibera, di realizzarle proprio entro quel periodo. Sulla tratta urbana Matera-Serrarifusa-Matera-Sud sarà prevista, in ottica dei grandi flussi per il 2019, un'offerta di servizi ferroviari integrativi rispetto a quelli del contratto regionale da definire consensualmente tra le parti al termine dei lavori in questione. Previste anche tareffe agevolate per chi userà contestualmente il parcheggio di Serrarifusa e la mobilità delle FAL.